Ciao, sono Viola Baciatutti e sono una cantatrice di 26 anni. Sono molto felice ed elettrizzata nel presentarvi questo mio premio EP che si intitola Delicatamente Tutti Intorno. Ho deciso di chiamarlo in questo modo proprio perché, come potrete notare, dalle luci della mia stanza mi piace molto circondarmi di questa atmosfera soffusa e quindi dalla definizione appunto proprio di soffuso ho deciso di chiamarlo in questo modo. Il brano centrale dell'EP è Giornata Mare. Giornata Mare è una canzone che io ho scritto in un momento di solitudine, di sconforto e quindi ho deciso che grazie alla scrittura di questo brano, stando molto con me stessa e potendomi osservare ho appunto deciso che queste parole mi potessero rappresentare al meglio rispetto anche ad altri brani dell'EP. e quindi è proprio per questo che è il pezzo centrale. I suoni che lo contraddistinguono poi sono sicuramente più rock, più forti e rispetto invece a tutti i suoni dell'EP in generale che sono più folk oriented, quindi comunque derivanti da un mondo anglosassone e appunto folk americano. La linea generale che accomuna però tutti i brani è sicuramente quella del mondo poetico, delle poesie che mi hanno accompagnato per tante situazioni della mia vita e spero che mi accompagneranno per altrettanto tempo e sicuramente la scelta di leggere poeti quali Narzi Minkmet, Pablo Neruda o comunque potesse ad esempio, Aldo Merlini mi hanno aiutato sicuramente nella scrittura di questi brani attraverso l'uso di metafore e comunque parole derivanti dal mondo romantico. Sono felice di quello che è venuto fuori e spero che possiate apprezzarlo anche voi. Grazie.